L'istituzione di un centro riabilitativo regionale per la diagnosi e la terapia della sclerosi multipla da localizzare nella clinica privata Villa Litizia di Preturo e Villa Dorotea di Scoppito, a pochi chilometri dall'Aqui. La struttura è gestita dalla stessa proprietà di Enrico e Mattia Vittorini, un'eccellenza a livello italiano e un nuovo servizio sul territorio che consentirebbe anche di garantire un futuro lavorativo a cinque fisioterapisti che oggi sono in esubero. È una proposta che ha avanzato alla Regione Abruzzo, condivisa anche dai sindacati, Enrico e Mattia Vittorini, proprietari del presidio ospedaliero dove lavorano circa 300 persone. Nei giorni scorsi è stata inviata una lettera alla Regione, al Comune dell'Aquila e ai parlamentari aquilani nella quale si chiede un incontro urgente per definire la fase operativa. Villa Dorotea e Villa Litizia sono già dotate di tutte le attrezzature e professionalità necessarie in un unico ambito sanitario nel quale è già stato adottato un protocollo di agnostico-terapeutico assistenziale all'avanguardia, un fiore all'occhiello e anche la piscina idrometrica munita di elevatore per pazienti atassici e non deambulanti. I pazienti con sclerosi multipla sono giovani o molto giovani e prevalentemente donne ed è necessario che la struttura riservi per questi pazienti almeno 20 posti letto separati dagli altri, con personale qualificato. Il progetto propone anche un protocollo di 60 giorni di cure riabilitative. Fondamentale sarà la collaborazione di università, ospedali, strutture di riabilitazione in dei ospiti e gli ambulatori del territorio che permetterebbe le dimissioni protette dei pazienti che potranno continuare così sul territorio e il protocollo non più quotidianamente. Il progetto ha visto anche il sì dei sindacati.